Salvatore e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo piccolo tutorial di spiego come mettere l'audio mono, combina l'audio destra e sinistra in uno solo, quindi in questo caso per mettere l'audio mono non ci vuole niente molto, se io invece tasto destro su il logo, questo qua dell'audio, tasto destro sopra, impostazioni audio, e proprio qui c'è scritto audio mono, combina i canali audio sinistra e destro in uno solo, tu lo attivi, e in questo caso se tu vai a giocare a uno sparatutto tu non sentirai né i passi a destra né a sinistra, sentirai solamente un solo audio, proprio combinerà tutti e due audio destra e sinistra in uno solo, quindi così si attiva. Quindi se questo video ti è stato utilissimo su come attivare così l'audio mono, iscriviti, lasciate un like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao! Grazie a tutti!